Pomeriggio ad alta tensione, quello di ieri per i residenti di quattro frazioni nel comune di Valle Castellana a causa di due slavine che sono cadute sulla strada provinciale 52 isolando i territori. Per questo motivo dopo il confronto tra il prefetto di Teramo e il sindaco Camillo D'Angelo è stato deciso l'intervento di evacuazione tramite degli elicotteri per 25 persone. Si è trattato dei residenti delle frazioni di Macchia da Sole, Macchia da Borea, Piano Maggiore e Leofara e di due operatori impegnati nello sgombero neve. Una decisione assunta considerando il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche e la presenza di soggetti fragili dopo lo svolgimento di un tavolo tecnico che si è svolto ieri mattina in prefettura, alla presenza della provincia dei Vigili del Fuoco e dello stesso primo cittadino. Giornata ad altissima tensione, tanta paura ieri per la chiusura della strada a causa delle tante slavine, oggi la situazione è nella normalità anche se stanotte il ghiaccio l'ha fatta la padrona. Purtroppo le previsioni non sono ottime perché da domani, da stanotte, domani fino a sabato è prevista neve. Sono le solite slavine che ogni anno cadono quasi negli stessi punti quindi io le chiamo prevedibili, naturalmente gli interventi di mantenzione straordinari avrebbero potuto evitare quella che è la chiusura di questi tratti di strada e quindi naturalmente l'isolamento di queste frazioni. Non è stato ancora deciso quando i residenti torneranno nelle proprie case ma ipotizzabile è che si attenda un miglioramento delle condizioni meteo e la pulizia totale della strada interessata dalle slavine. Attendiamo le previsioni stasera affinché diventino più certe se così si può dire, vediamo se le condizioni meteo saranno ancora avverse per i prossimi quattro giorni perché se così sarà non prima di domenica. Solo nella serata ieri gli operatori della provincia di Teramo sono riusciti a liberare macchia da sole e macchia da borea passando da Valle Inquina ma su questo aspetto il sindaco D'Angelo definisce l'operato dell'ente non idoneo all'emergenza venutasi a creare e che da anni si ripete in quella zona. Non si può dire dopo che la strada venne aperta perché le persone erano isolate e non si conoscevano i tempi per raggiungere la frazione. Bisogna dirlo prima quindi sapere a che ora si possono raggiungere le frazioni perché le persone malate soprattutto i piccoli, i bambini, ci sono bambini tra l'altro anche di meno di un anno, se magari dovessero avere un malore avere bisogno di soccorsi non sono certamente raggiungibili. Quindi è inutile fare annunci dopo che la strada venne aperta ma bisogna dire prima a che ora si riesce ad aprirla. Ovviamente lei è rimasto in stretto contatto con tutte le persone che sono dovute rimanere lì. Sì, siamo rimasti continuamente in contatto grazie al ripetitore wireless satellitare che abbiamo messo noi come comune a servizio di questa collettività dove purtroppo non c'è nemmeno la rete telefonica cellulare quindi capiamo le difficoltà della zona. Se dovesse venire meno quel ripetitore praticamente rimangono isolati anche dalle comunicazioni. Per questo l'apprezzione e la preoccupazione è stata altissima.